In vista del Consiglio Comunale di lunedì, dove verranno discusse le ultime fasi che daranno finalmente il via ai lavori di riqualificazione del piazzone, le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA avevano organizzato uno o due giorni di incontri con i consiglieri comunali per un confronto. Incontri a cui hanno partecipato solo i consiglieri di minoranza, mentre quelli di maggioranza hanno declinato, affermando in una lettera come la sede istituzionale per il confronto sia solo il Consiglio Comunale. Un rifiuto che è stato duramente criticato dalle associazioni, che lamentano da tempo il muro che si è venuto a creare con l'amministrazione al riguardo del tema del piazzone, dato che all'ultimo tavolo di concertazione convocato erano presenti soltanto i tecnici e nessuno dell'amministrazione. Fare un passo indietro a volte serve per ripartire con più slancio, questo quanto dichiarato dalle associazioni, che al di là delle questioni tecniche e burocratiche legate al project financing, continuano a chiedere quali siano i provvedimenti che verranno presi nel frattempo che venga realizzato il progetto, alla luce anche del susseguirsi di fatti di cronaca, l'ultimo dei quali ha visto il furto di circa 3.000 euro in oro e gioielli in una gioielleria di via Cesare Battisti.